Pulisic per Krunic, allunga su Pellegri, Krunic taglia il pallone a sinistra da Teo Hernandez, c'è Leao. Dentro per Teo Hernandez, finta il cross, ferma il pallone, Leao. Dentro per Teo Hernandez, che partito, Teo Hernandez tocco sotto! Che gol! Delicatissimo, Teo Hernandez 3-1. Al secondo di recupero, il Milan prova a prendere il largo con il primo splendido gol in questo campionato di Teo Hernandez.